Che confusione sarà perché finiamo, è un'emozione che c'è piano piano, dici mi porte e stai più vicino, e chi non salta, non salto più ventino. La credo seria del 2017-2018, le 4 rotazioni, Roma. La scuola si dice, bisogna perdere le 2. 24, 5, 6, 7, 11, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 21, browse, 30, 15, 16, 18, 24, 15, 15, ji il presidente e il presidente il presidente il presidente presenta l'automazione il presidente con il numero 99 Gigi con il numero 7 Nicola con il numero 9 Andrea con il numero 10 con il numero 11 con il numero 13 Alessio con il numero 19 Leonardo con il numero 21 Luca Silvia con il numero 22 Matteo con il numero 68 Riccardo Patrice e con il numero 79 Fred a disposizione della mia